Siamo vicini alla scadenza della moratoria del 30 aprile anche per gli artigiani, una scadenza importante, siamo vicini anche alle discussioni sul recovery plan. Siamo qui a Confartigianato e chiediamo quali sono le necessità che avvertono per le imprese artigiane, chiediamo al presidente di Confartigianato Verona, come sta l'artigianato qui nella nostra città e provincia? È una situazione molto difficile soprattutto per alcune categorie come per esempio il comparto della moda o tutto il comparto del turismo. Abbiamo calcolato un 32% di aziende che sono in difficoltà e che avranno comunque dei grossi problemi per la ripartenza. Il 15% di queste aziende ha avuto un calo di fatturato dell'oltre il 50%, quindi diciamo una situazione da tenere sicuramente sotto controllo perché è una situazione che ci crea molta difficoltà in questo momento. Non solo le chiusure, alcune che ancora non riusciamo a capire come per esempio i servizi alla persona che hanno potuto tenere aperto a dicembre e che poi sono stati invece chiusi in questo ultimo lockdown e altri che ovviamente come il comparto della moda che parlavo prima, ovviamente chiudendo tutte le cerimonie non ha più quel giro di affari che aveva ovviamente nel 2018-2019, ma non solo parlò dei tour operator, degli NCC, tutto il comparto e tutto chi lavora in filiera rispetto al turismo che ovviamente è in grandissima difficoltà. E poi ripeto, ci sono attività che possono lavorare e secondo me devono lavorare in sicurezza ma devono poter tenere aperti come per esempio i servizi alla persona anche in zona rossa. Noi abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare, abbiamo raccolto nel giro di pochi giorni 50.000 firme per dare appunto questo sostegno, queste attività che sono in sofferenza e hanno bisogno comunque di ossigeno e quindi di poter lavorare. Il 30 aprile ci sarà la scadenza della moratoria e di cosa si tratta? Quali sono le problematiche e cosa chiedete? Certamente perché comunque era stata prevista ancora l'anno scorso quindi ovviamente si pensava a una ripartenza più immediata. Siamo nel 2021, siamo ad aprile e non è pensabile che si possa tenere questa scadenza perché le aziende sono ancora in difficoltà quindi va sicuramente spostata per aiutare le aziende che sono in difficoltà ad avere appunto la possibilità di avere ossigeno che vuol dire liquidità nelle proprie aziende. Quindi va sicuramente prorogata la moratoria. Stiamo parlando praticamente di quello che riguarda i debiti che hanno le aziende per le banche quindi insomma spostare ovviamente quello che è il proprio debito. Un'altra problematica particolare è il rating bancario che può cambiare. Ce ne parli? Un punto molto importante perché ovviamente è normale pensare che nel 2020 le aziende hanno avuto difficoltà e chi ha avuto difficoltà non potrà essere assolvibile rispetto alle banche come lo era nel 2018-2019. E qui va posta un'attenzione particolare perché altrimenti si crea un doppio problema. il danno di non aver potuto lavorare per il problema della pandemia e il danno perché magari non si è più solvibile rispetto alle banche stesse. Quindi è una lente che va ben tenuta sotto controllo perché altrimenti creeremo un doppio danno alle aziende. Sono tante le riforme che chiedete? Per esempio quella del fisco? Per quanto riguarda il fisco come la burocrazia questo deve essere il momento per fare veramente delle riforme importanti e sostanziali. Sono anni che se ne parla però proprio nello specifico non si è mai entrato. Abbiamo bisogno veramente che lo Stato guardi a queste aziende, alle piccole e medie aziende in maniera diversa rispetto a quelle che guarda per esempio le grandi industrie. Vorrei ricordare che noi siamo il 94% del tessuto sociale e imprenditoriale nazionale. Quindi insomma la riforma del fisco come quella della burocrazia è una riforma che in questo momento potrebbe dare un rilancio maggiore alle aziende nella ripartenza e noi abbiamo bisogno ovviamente di questo. Altri aspetti importanti sono quelli di un'adeguata digitalizzazione della pubblica amministrazione e un accorciamento dei tempi di svolgimento degli appalti. Sicuramente maggiore velocità, maggiore scioltezza nel concedere appunto la possibilità di fare appalti. C'è la possibilità di fare anche appalti a chilometro zero, a cosiddetto quindi restando nel territorio e facendo lavorare le aziende del territorio. In questo momento credo che sia importantissimo agevolare e snellire quello che è tutta la burocrazia anche per gli appalti pubblici. Si parla tanto del recovery plan, cosa chiedete per considerare le esigenze particolari anche delle piccole e medie imprese che sono il tessuto del territorio? Le aspettative sono ovviamente molte perché comunque è un recovery plan che potrà fare moltissimo per il paese, questo non lo diciamo solo noi, sono tanti soldi che possono arrivare ma devono essere usati bene. Non deve essere un ennesimo debito per la nostra Italia, deve essere un qualcosa che possa rilanciare l'economia, quello che dicevo prima, per le piccole, micro e medie aziende. Quindi usare un vestito adatto per queste aziende è una cosa importantissima. Noi abbiamo tantissime aspettative, come ripeto, perché devono essere usati bene, devono essere spesi bene e devono dare un rilancio a quella che è un'economia in crisi, in difficoltà in questo momento, ovviamente legata anche alla pandemia. Ricordo che venivamo anche da una crisi del 2008-2009, quindi ci eravamo appena rialzati e abbiamo avuto ulteriore crisi con la pandemia. Di conseguenza va veramente cucito bene questo abito addosso alle aziende, e quindi la fotografia che deve essere fatta dalle aziende deve essere una fotografia reale di quello che è il nostro tessuto imprenditoriale nazionale.